Torna per i bambini di Sansa la colonia estiva promossa nel golfo di Policastro dal comune guidato dal sindaco Vittorio Esposito. È un appuntamento annuale a cui non si può mancare dal prossimo 3 luglio e fino al 14 luglio per i bambini e i ragazzi della cittadina di età compresa tra i 6 e i 13 anni. È dunque prevista la colonia estiva che si terrà presso una struttura balneare nel golfo di Policastro con la presenza di animatori e accompagnatori che provvederanno alla sicurezza dei bambini. Sono quindi aperte le iscrizioni per le famiglie che vorranno aderire e che dovranno presentare domanda entro il prossimo 30 giugno. La quota di iscrizione per due settimane di colonia, informano dal comune, è di 25 euro, quota che sarà ridotta a 20 per il secondo o terzo partecipante della stessa famiglia. I modelli di domanda sono reperibili presso l'ufficio protocollo del comune in piazza 24 maggio oppure presso l'ufficio politiche e sociali del comune. Soddisfazione per l'iniziativa riproposta anche quest'anno è stata espressa dall'assessore alle politiche sociali del comune Marianna Citera la quale ha affermato consolidiamo nel tempo quella che era una consuetudine che abbiamo ripreso come amministrazione comunale ossia mandare i nostri ragazzi alla colonia estiva nel golfo di Policastro per due settimane accuditi da un servizio di accompagnamento e vigilanza che alimenterà anche attività ludiche. I nostri ragazzi ha sottolineato ancora l'assessore Citera potranno godere della bellezza e della spensieratezza delle vacanze al mare superando anche le difficoltà di quelle famiglie impossibilitate per motivi di lavoro o altro. Stiamo lavorando anche a perfezionare come ogni anno la convenzione con il comune di Santa Marina Policastro che ringrazio per la disponibilità ha affermato l'assessore Citera per attivare anche quest'anno la sinergia istituzionale che consentirà ai cittadini di Sanza che sceglieranno Policastro Bussentino per le loro vacanze al mare di avere uno sconto anche importante sui tagliandi di parcheggio auto dunque resta da aggiungere solo buone vacanze ha concluso l'assessore Citera.